C'è un possibile focolaio da coronavirus che preoccupa il sindaco di Ascoli Satriano Vincenzo Sarcone. Nella cittadina in provincia di Foggia che a febbraio scorso fece registrare il primo caso di positività al covid-19 torna l'incubo di questa pandemia. Si attende l'ufficialità ma in una casa di riposo per anziani sarebbe scoppiato un focolaio con 20 casi di contagio tra pazienti e ospiti della struttura. Il sindaco in attesa di notizie ufficiali ribadisce l'invito alla cittadinanza ad osservare rigorosamente le norme anti-covid. Messaggio che anche il primo cittadino di Bari Antonio De Caro rilancia con forza ora che i numeri parlano di 398 persone attualmente positive al covid-19 nel capoluogo. La situazione è sotto controllo spiega De Caro ma dobbiamo rispettare le norme anti-covid ribadisce, mantenere le distanze, evitare gli assembramenti e rispettare l'obbligo di indossare la mascherina. Poi l'invito rivolto ai genitori non c'è bisogno di accompagnare i figli a scuola in due o tre persone. Uno dei casi di contagio a Bari arriva dal circolo tennis. Si tratta di un collaboratore del ristorante e per questo motivo la direzione del circolo ha deciso di chiudere la struttura oggi per permettere la sanificazione di tutti gli ambienti.